Si terrà dal 7 al 9 settembre nella suggestiva location di Villeponti la quarta edizione della Mostra Mercato Varese Orchidea 2012, una affascinante esposizione di preziose orchidee provenienti da tutto il mondo, dalle più comuni alle più rare. Alla manifestazione esporranno collezionisti europei, hobbysti ed esperti coltivatori di fama internazionale, tra gli espositori italiani più famosi riboni orchidee di Varese e l'orchideria di Morosolo. La mostra aprirà venerdì mattina alle 9.30 e fino alla chiusura dell'evento, previsto per domenica alle 19, oltre alla mostra e alla vendita delle orchidee, sarà possibile assistere ad una serie di conferenze tenute da professori universitari dell'Insubria e della Sapienza di Roma, che tratteranno di temi fondamentali riguardanti la coltivazione, la biodiversità e il ripopolamento di queste meravigliose piante. Alla realizzazione di questa Mostra Mercato hanno collaborato in modo concreto l'Assessorata all'Agricoltura della provincia di Varese e la Camera di Commercio Varesina, che ha messo a disposizione gli spazi necessari per l'allestimento della manifestazione.